Quanto manca l'alcoin season? Con il video di oggi risponderemo o proveremo a rispondere a questa domanda. Daremo uno sguardo al bitcoin per capire cosa sta facendo, siamo nuovamente stati rigettati dalla resistenza del nostro canale ribassista che in realtà a mio avviso è una bull flag. Pertanto aspettiamo un'eventuale rottura a rialzo. Stiamo seguendo la riaccumulazione di Wyckoff e lo vedremo insieme in che fase stiamo. Inoltre guarderemo il grafico del gold contro bitcoin, come sempre, la dominance del bitcoin che appunto ci potrà dire quando e se potrà esserci un alcoin season, XRP che finalmente sta facendo vedere di che passo è fatto, sta recuperando tantissimo terreno nei confronti del dollar e nei confronti anche dello stesso bitcoin e guarderemo entrambi i grafici per vedere quali possono essere eventuali target di breve periodo. Inoltre daremo uno sguardo a Ethereum e poi volevo farvi notare anche invidia perché a mio avviso stiamo vicini a un ottimo supporto che potremmo utilizzare a nostro vantaggio. Ovviamente tutto quello che io vi dirò non saranno assolutamente nei consigli finanziari né di trading, sono soltanto le mie opinioni. Mi raccomando, se volete continuare a ricevere i miei contenuti, vi sto registrando il 30 di luglio alle 21.45. Se volete supportarmi, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e condividete questo video con tutti quelli che conoscete e che amano il mondo delle criptovalute. Allora, iniziamo subito a guardare un po' di chart, subito dopo la sigla. Ed eccoci a noi, siamo tornati in questo video. Possiamo dare subito un'occhiata al Bitcoin Cycle Top Indicator. Questa chart, per chi di voi già mi conosce, sa che io la uso tantissimo perché ha al suo interno due medie mobili. La media mobile arancione dei 111 giorni e la media mobile verde dei 350 giorni al quadrato. La caratteristica fondamentale di questa chart è che ti dice quando potrebbe esserci un top, sino ad ora non ha mai sbagliato. E questo avviene quando viene un incrocio rialzista tra la media mobile dei 111 giorni che si va a incrociare con quella verde dei 350 giorni al quadrato. Oltre a questo, che comunque ci sta facendo notare che sono ancora abbastanza distanti tra di loro, la cosa importante è che durante le fasi rialziste il prezzo tende a rimanere incastrato all'interno di queste due medie mobili e le utilizza come supporto e resistenza per continuare la sua fase rialzista. Come abbiamo fatto nel 2016-2017, come vedete, resistenza-supporto, resistenza-supporto, prima poi di romperla e utilizzarla entrambe come supporto, prima di fare il vero e proprio top di mercato. In questo momento noi stiamo facendo supporto, abbiamo fatto la nostra resistenza con il nostro top, oltre a mai avuto qualche settimana fa, dopodiché abbiamo avuto il nostro ritracciamento. Addirittura siamo andati a perdere la 111 giorni, ma l'abbiamo prontamente recuperata. Io, come vi avevo detto, durante le fasi rialziste, l'acquisto al di sotto della media mobile a 111 giorni si è sempre rilevato poi essere una scelta interessante nel lungo periodo. Infatti era successo in queste zone qui, dove l'avevamo persa e poi ci siamo rientrati dentro. Anche in questa zona qui l'avevamo persa, anche se per brevissimo periodo, e poi ci siamo rientrati dentro. La stessa cosa l'avevamo fatta nella parte finale. In questa zona qui, persa e poi rientrati all'interno prima di ritestare la parte superiore. E qui la stessa cosa, persa, ora siamo rientrati all'interno. In questo momento si trova intorno ai 64.822. Il nostro target, per quanto riguarda la nostra resistenza più importante, come vi dicevo, è la 350 giorni al quadrato, che in questo momento si trova a 98.193 dollari. Quindi siamo ben distanti dal prezzo attuale. Vi ricordo che per poter fare il nostro ultimai, in teoria la 111 giorni dovrebbe andare a scontrarsi, quindi dovrebbe andare a colpire i 98.000 dollari in questo momento, ma più avanti sicuramente continuerà a crescere. Quindi in teoria dovrebbe essere il nostro top di mercato un prezzo superiore addirittura alla 350 giorni. Vedremo e lo vedremo insieme man mano con il trascorrere dei mesi. Oltre a quello, volevo farvi notare anche la cycle low multiple. Praticamente in questa chart possiamo vedere come il bitcoin segue le fasi cicliche per quanto riguarda il swalving. In questa chart abbiamo quindi le nostre tre fasi cicliche. Abbiamo quella in giallo, arancione, che è quella lì del 2016-2017, quella verde che è quella del 2020-2021 e quella rossa che è quella attuale. La caratteristica è che qui abbiamo i giorni, 0 è il giorno dell'halving e possiamo andare sino a 700 giorni prima dell'halving e 700 giorni dopo. Qui invece sulle colonne abbiamo i moltiplicatori, vuol dire quanto abbiamo performato rispetto al nostro bottom. Quindi per farvi un'idea, se il nostro bottom è di 1000 dollari e dovessimo andare a 4, quindi siamo a 4000 dollari, quindi 4 volte il nostro bottom. Cosa possiamo notare? Tutti i nostri bottom, io lo faccio sempre presente perché è una cosa importante, perché la ciclicità sul bitcoin è veramente sensazionale, tutti i nostri bottom sono stati fatti intorno ai 500-550 giorni prima dell'halving. Quindi dall'halving 550 giorni prima abbiamo avuto il nostro bottom. Inoltre, come vedete, stiamo seguendo un sentiero che ci fa discostare pochissimo rispetto al percorso avuto precedentemente e tutte le volte che ci siamo discostati verso l'alto è sempre stata poi una calamita verso il basso, la possibilità di ritracciare verso il basso. Viceversa, quando abbiamo sottoperformato, quindi le performance sono andate al di sotto del nostro sentiero, poi abbiamo avuto un forte recupero, anche in questo caso era successo qui con il 2019 e anche col covid crash, come vedete, la sezione inversa. Cosa possiamo notare? Possiamo notare che in questo momento stiamo addirittura performando meglio del 2016-2017, abbiamo un moltiplicatore di 4.24 rispetto a quell'arancione del 3.86. Quello che possiamo notare è che potremmo eventualmente proseguire perché stiamo leggermente in anticipo rispetto all'andamento del 2016-2017 dove potremmo avere gli stessi moltiplicatori attuali intorno ai 114-115 giorni dall'alving. In questo momento siamo a 101 giorni, quindi fra un paio di settimane dovremmo comunque essere in questo range per poi avere un vero e proprio inizio di spinta rialzista intorno al 164-165 giorno dall'alving, quindi più o meno fra un paio di mesi, verso ottobre potrebbe, a fine settembre-ottobre potrebbe esserci della volatilità rialzista. Inoltre, come vi avevo fatto notare, il nostro Bitcoin sta per chiudere il mese di giugno in positivo al 4.91% attuale. Quello che io vi avevo detto è che tutte le volte che, il mese di luglio, che tutte le volte che il mese di giugno l'avevamo chiuso in modo negativo, abbiamo sempre avuto un mese di luglio positivo e un mese di settembre negativo. Lo abbiamo avuto nel 2022, quindi giugno negativo, settembre negativo e luglio positivo. La stessa cosa nel 2021, la stessa cosa nel 2020, nel 2018 e nel 2013. Tutte le volte, quindi giugno positivo e settembre negativo. Quindi massima allerta a settembre, perché a questo punto, io mi aspetto una probabilità molto alta che settembre possa chiudere in modo negativo. Ma cosa potrebbe succedere invece ad agosto? Allora, agosto a mio avviso potrebbe essere un mese bullish. Qualora dovessimo riuscire a chiudere completamente il nostro schema dell'accumulazione di Wyckoff, potremmo andare a performare, a fare un nuovo all-timey e poi eventualmente ritracciare a settembre per poi avere un ultimo trimestre abbastanza importante e a mio avviso positivo. Ora guarderemo un po' il grafico e faremo anche un po' di analisi tecnica per vedere quello che intendo direttamente sul grafico. Per quanto riguarda invece la Bitcoin Season, come vedete in questo momento stiamo esattamente nella Bitcoin Season con un 16 e un valore bassissimo. Tra i più bassi in assoluto è quasi un'area di bottom, manca veramente pochissimo. Quindi stiamo in una fase dove le halconi stanno soffrendo tantissimo. Ora ci sposteremo anche sul grafico e daremo un'occhiata per vedere quanto ancora potrebbe mancare a questo. Un'altra cosa interessante è che tutti quanti fanno presente che il Bitcoin è correlato con l'S&P 500 e io volevo invece farvi notare come questa correlazione è vero che esiste ma non è così importante come invece lo può essere con altri asset. Allora innanzitutto come possiamo notare quando questo valore diventa 1 vuol dire che la correlazione è perfetta quindi sale uno, sale l'altro scende uno, scende l'altro. Più questo valore tende allo 0,01 a quel punto vuol dire che non esiste alcuna correlazione con i movimenti che se sale uno l'altro scende. Quello che possiamo notare è che il gold ha 0,21 nei confronti del Bitcoin vuol dire che è veramente decorrelato ha una correlazione bassissima infatti fa sempre una corsa a sé stante. L'S&P 500 è correlato 0,53 che può sembrare un valore alto ma in realtà non lo è e pertanto non è correlato col Bitcoin. Questo quindi vi fa vedere proprio a livello grafico che non esiste una correlazione importante con l'S&P 500. È ovvio che se una giornata è molto forte in modo positivo da un lato potrebbe esserlo in automatico anche nel mondo delle criptovalute. Guardate invece che correlazione abbiamo con gli altri asset. Da notare come Ethereum sia correlato quasi alla perfezione con Bitcoin mentre quella meno correlata con Bitcoin è proprio XRP che come vedete è leggermente superiore rispetto all'S&P 500 ma più o meno stiamo lì. Quindi XRP sta facendo anch'essa una corsa a sé stante. Questo è nell'ultimo anno. Se dovessimo spostarci invece negli ultimi 90 giorni come vedete l'S&P 500 ha uno 0,13 di correlazione quindi è veramente bassissimo e il gold 0,04 addirittura XRP si conferma il più distaccato per quanto riguarda Bitcoin insieme a Doge con uno 0,44. Ora andiamo e spostiamoci sul grafico e facciamo un po' di analisi tecnica per cercare di capire quello che sta succedendo. Allora innanzitutto vi volevo far notare che a mio avviso questa qui è una bull flag quindi stiamo all'interno di questo canale ribassista a mio avviso abbiamo completato la fase ribassista con questa spring abbiamo provato a romperlo a ribasso e non ce l'abbiamo fatta. Come vedete questo qui è il grafico della riaccumulazione di Wyckoff dopo la nostra salita siamo andati a fare un primo spike rialzista un secondo spike rialzista e poi siamo andati a ritracciare come in questo caso guardate primo spike rialzista secondo spike rialzista siamo andati a ritracciare dopodiché abbiamo fatto una salita nuovamente per andare a toccare la resistenza con due massimi consecutivi qui abbiamo fatto di nuovo una salita con due massimi consecutivi prima di avere una discesa non repentina come queste due ma lenta e costante ed estenuante come in questo caso lenta costante ed estenuante siamo andati a fare la nostra spring quindi il nostro minimo più basso rispetto a quelli precedenti come in questo caso abbiamo fatto addirittura mi avvicino con lo zoom due minimi esattamente come questi un minimo più profondo e subito dopo un minimo meno profondo minimo più profondo e poi minimo meno profondo e da lì siamo andati a ripartire siamo ripartiti ma ancora non siamo riusciti a rompere la nostra resistenza quindi a mio avviso siamo ripartiti ma ancora non siamo riusciti a rompere la nostra resistenza stiamo secondo me in questa zona qui a mio avviso manca pochissimo secondo me potrebbe essere un touch di questo mezzo canale tratteggiato un touch prima poi di poter ritornare in questa parte e provare a romperla come abbiamo fatto in questa zona qui prima poi di riproseguire in questa fase razzista attenzione perché eventualmente bisogna vedere se riusciremo con il mese di agosto a rompere per poi avere un settembre con un magari retest su questo canale prima poi di proseguire per quanto riguarda ottobre e tutto quanto il trimestre finale volevo farvi notare ora spostiamoci un attimo zoomiamo un po' il grafico allora volevo farvi notare come stiamo facendo una divergenza rialzista per quanto riguarda l'RSI sul time frame giornaliero quindi abbiamo dei minimi che sono più bassi più alti rispetto a quelli precedenti mentre sull'RSI stiamo facendo dei minimi più bassi rispetto a quello precedente questo potrebbe generare una divergenza rialzista qualora venga confermata con una candela verde quindi ora aspettiamo di vedere se vuole andare a testare questa linea tratteggiata prima di ripartire o se già da qui potrebbe essere un buon momento per fare una ripartenza spostiamoci sul time frame orario in modo tale da avere un po' le idee ancora più chiare su quello che stiamo facendo allora tracciando il nostro Fibonacci dal nostro local bottom sino al nostro local top avuto nella giornata del 29 quindi nella giornata di ieri possiamo notare come in questo momento stiamo lottando con lo 0.61 sul time frame orario lo abbiamo rotto ma poi abbiamo provato a recuperarlo poi l'abbiamo nuovamente rirotto e adesso secondo me stiamo facendo un bearish retest tutto dipenderà da un'eventuale chiusura giornaliera se la chiuderemo al di sopra al di sotto lo 0.61 ma a mio avviso un retest intorno ai 65.070 dollari potrebbe essere potrebbe essere molto probabile prima poi di riproseguire nuovamente in questa fase rialzista qualora invece dovessimo chiudere sul time frame sopra lo 0.61 fibonacci che si trova a 65.942 a quel punto io mi posso aspettare un retest prima dello 0.38 e poi eventualmente già una ripartenza vediamo un attimo come chiude vi ricordo che i supporti sono qui quindi 65.072 poi abbiamo eventualmente le medie mobili quindi abbiamo la media mobile che troviamo intorno a 62.211 giorni con chiusure e poi abbiamo lo 0.5 di fibonacci che lo troviamo a 62.761 quindi vediamo un attimo dove si può fermare a mio avviso eventualmente potrebbe fare un movimento del genere oppure già da qui se potrebbe se bitcoin decide che può bastare come ritracciamento possiamo già provare a ripartire non mi aspetto ulteriori discese al di sotto della 200 giorni che si trova a 61.000 dollari quindi secondo me potremo fermarci in questa zona qui prima di poter ripartire un'altra cosa che volevo farvi notare è il gold contro bitcoin è una chart che noi vediamo sempre è importantissima non ve la porta mai nessuno ve la porto solo io e pertanto mi raccomando seguitemi se volete essere aggiornati su questa chart che a mio avviso è spettacolare cosa possiamo vedere possiamo vedere innanzitutto che qui su questo canale giallo abbiamo avuto i nostri tre top qui stiamo sul time frame settimanale del gold contro bitcoin vuol dire che questo è come il grafico del bitcoin visto al contrario ma ci dà delle resistenze e dei supporti che il grafico del dollaro non ci fa vedere qui abbiamo avuto il nostro top del 2017 qui abbiamo avuto i nostri due top per quanto riguarda il 2021 e poi abbiamo avuto il nostro bottom del 2023 quindi gennaio 2023 che è stato un touch esattamente del 023 di fibonacci tracciando il nostro massimo che in realtà è il precedente bottom del bitcoin che come vedete anche qui è andato proprio su questo canale la resistenza di questo canale verde e anche il covid cresce guardate come ha chiuso all'interno quindi da qui tracciamo il nostro fibonacci sino ai nostri top del bitcoin e possiamo notare come lo 023 nei confronti del gold ha fatto da bottom di mercato da lì siamo ripartiti il nostro target a mio avviso è nuovamente il retest dello 0 e pertanto io mi aspetto che da qui il bitcoin intanto scenda vada a ritestare nuovamente questo è un potenziale top di mercato me lo potrei aspettare al retest di questo canale discendente quindi occhio a questo canale discendente che a mio avviso potrebbe delineare eventualmente il top di mercato nel 2025 io me lo aspetto intorno a ottobre settembre ottobre 2025 ma questa benedetta al coin season quando potrebbe arrivare ma può arrivare allora diamo uno sguardo alla dominance del bitcoin e cerchiamo di vedere qualche segnale per capire se questa al coin season ci può essere a breve oppure se dobbiamo ancora aspettare tanto quello che possiamo notare è che la dominance è chiusa all'interno di questo pattern triangolare che ha delineato da questi lati di color arancione come vedete abbiamo avuto il nostro top della dominance proprio su questo punto e da lì siamo andati a ritestare la parte bassa e questa è stata una vera e propria al coin season dove il bitcoin ha perso tutta la dominance possibile immaginabile dopodiché abbiamo fatto un forte riaccumulo che sta seguendo questo canale blu rialzista ma che a breve si scontrerà nuovamente con questa trend line arancione quindi alla rottura di questo canale blu e a un test per quanto riguarda questo questa trend line arancione io personalmente mi aspetto una forte discesa a mio avviso la coin season potrebbe iniziare proprio in quel momento la naturale rottura eventualmente dovesse tenere la linea arancione sarebbe tra il canale e la linea arancione il giorno 14 ottobre quindi entro il 14 ottobre sapremo se ha avuto più forza la dominance e quindi avrà rotto questa trend line arancione oppure se da qui verremo respinti e quindi romperemo questo canale rialzista quindi 14 ottobre segnatevelo potrebbe essere il giorno dell'inizio dell'alcoin season a mio avviso oppure potrebbe essere prima per saperlo dobbiamo seguire questo canale quindi se romperemo questo canale in modo ribassista a quel punto potrebbe generarsi una vera e propria alcoin season ma xrp che cosa sta combinando xrp che tutti quanti lo denigravano che nessuno ne stava parlando è che io sono mesi che vi sto dicendo ragazzi su xrp stiamo per raggiungere un bottom di mercato per quanto riguarda il grafico contro bitcoin e partiamo proprio da quello così vi faccio notare che cosa sta succedendo questo è il grafico di xrp contro bitcoin anche in questo caso stiamo all'interno di un pattern triangolare cosa possiamo notare possiamo notare che abbiamo toccato un supporto importantissimo che era questo supporto verde cosa è successo poi zoomiamo stiamo su time frame settimanale eravamo sotto una resistenza importantissima per quanto riguarda xrp guardate quante candele rosse consecutive siamo andati a fare ma da notare che eravamo sotto una resistenza anche per quanto riguarda le rsi cosa è successo sull'rsi abbiamo rotto questa resistenza già da questa zona qui poi ci sono volute diverse settimane e io qui vi ho aggiornato giorno per giorno per dirvi sull'rsi l'abbiamo già rotto l'rsi ci annuncia in netto anticipo quello che potrebbe succedere quindi che cosa è successo abbiamo rotto finalmente la trendline nera siamo andati a fare un bullish retest con questa candela qui rossa e da lì siamo partiti siamo andati quindi dal retest a fare attualmente un 36% tutto questo in un mesetto e pertanto a mio avviso xrp potrebbe continuare in questa fase rialzista e potrebbe andare a spingersi anche sino eventualmente a toccare questa questa linea di resistenza verde dalla quale in questo momento ci stiamo discostando intorno a un ulteriore 30% quello potrebbe essere un target di medio periodo ora spostiamoci sul grafico di xrp cerchiamo di capire anche da qui cosa stiamo cosa sta succedendo spostiamoci sul time frame settimanale in modo da avere le idee ancora più chiare allora come vi dicevo xrp eccolo qua questo è il grafico di xrp ve lo faccio vedere in piccolo così potete gustarvelo benissimo e vederlo a tutto schermo xrp aveva fatto un pattern triangolare un fake out verso il basso poi guardate cosa è successo zoom un pochino siamo andati a fare nuovamente un retest prima poi di partire a razzo to the moon dopo di che cosa abbiamo fatto siamo rimasti nuovamente intrappolati all'interno di un triangolo triangolo che ha portato xrp a non fare nuovi massimi rispetto a quelli del 2017 proprio per la forma triangolare che ha compresso il prezzo sia con i minimi che abbiamo fatto sempre i minimi più alti come vedete ma anche purtroppo con i massimi che abbiamo fatto sempre massimi più bassi il prezzo si sta comprimendo da diversi anni quindi sono due bull run nella quale xrp è chiuso all'interno di questo pattern ma cosa è successo abbiamo provato a fare un fake out con chiusura addirittura settimanale ma guardate dalla settimana successiva abbiamo fatto quattro settimane verdi consecutive il nostro target a mio avviso è questa trend line blu che in questo momento dista un ulteriore 12-13% quindi si trova intorno ai 70 centesimi vedremo come si comporterà da lì se avrà la forza di rompere oppure se faremo nuovamente una capatina su questa zona qui come abbiamo fatto anche nell'altra bull run prima poi di rompere al rialzo e di avere degli spike veramente importanti come quelli che xrp ci ha sempre abituati vediamo che cosa si inventano questa volta per far per giustificare questi pump di xrp quando poi anche l'analisi tecnica vuole la sua parte diamo uno sguardo velocissimo a ethereum che ha avuto il suo etf ma che in questo momento sta deludendo tantissimi ma questo perché ci sta un giro tra l'etf più quello che come con bitcoin quello di jp morgan che praticamente ha dei tassi molto più alti quindi non è conveniente quindi la gente lo sta dampando o per liberarsene oppure per passare all'etf di blackrock pertanto in questo momento ethereum sta provando a rompere addirittura lo 038 di fibonacci ma stiamo andando a supporto della 111 giorni che questa media mobile è arancione vediamo quello che può fare massima attenzione potremmo arrivare anche eventualmente a un retest della 200 giorni che si trova a 3213 e prima poi di provare a ripartire a mio avviso comunque ci saranno ancora un paio di settimane in cui ethereum soffrirà di più rispetto al bitcoin e questo lo possiamo vedere anche sul grafico ethereum contro bitcoin eccolo qui secondo me rimarremo incastrati ancora sotto questa trendline nel momento in cui riusciremo a mettere la testa sopra potremmo vedere un ethereum più potente più vigoroso nei confronti ai bitcoin mi sta subito cadendo l'occhio su una trendline per quanto riguarda l'rsi ci stiamo comprimendo al di sotto alla rottura di questa trendline potrebbe essere interessante vedere il movimento che farà il nostro ethereum ora diamo uno sguardo a invidia vi darò il mio target eventuale di ingresso invidia che in questo momento quindi ha chiuso una decina di minuti fa sta continuando a scendere a mio avviso un target interessante per un supporto importante potrebbe essere lo 0.61 di fibonacci considerando il nostro local bottom avuto a 75.12 con il nostro top lo 0.61 di fibonacci che si trova quindi a 100 praticamente 0.57 che come vedete è in concomitanza esattamente con la 111 giorni quindi un eventuale retest che vorrebbe dire dal massimo una perdita del 29% quindi 28 29% prima di avere una ripartenza vediamo vediamo se questo target andrà a buon fine io intanto ho un'intera giornata prima di valutare eventuali ingressi per quanto riguarda invidia a mio avviso potrebbe essere questo un valore interessante fatemi sapere cosa ne pensate anche voi ditemi la vostra e mi raccomando lasciatemi un bel messaggio che mi fa sempre tantissimo piacere speriamo di fare qualche altro aggiornamento estivo mi dispiace se non sono molto presente in questo periodo ma purtroppo l'estate è così ci sono tantissime cose da fare e quindi mi sto dedicando alla famiglia e ad altro ma sicuramente da settembre partiremo a razzo quindi noi ci vediamo nel prossimo video è stato un piacere e alla prossima ciao ragazzi buonasera a tutti sperando che questa volta il mio microfono lui abbia fatto il bravo è stato un piacere